buon pomeriggio a tutte oggi finalmente vi farò vedere i premi per il concorso che ho fatto partire ormai non mi ricordo forse era il 24 di giugno comunque finalmente mi sono arrivati i premi di cui vi avevo parlato e quindi ora ve li faccio vedere i premi come vi avevo già preannunciato sono due palette anzi questa è sorta così due palette della urban decay questo è il primo premio e questo è il secondo premio adesso io ve le aprirò ovviamente senza toccarle giusto per farvi vedere i colori che ci sono questa è la il secondo premio e si chiama prin shadow box e contiene sei ombretti e una mini taglia di urban decay primer potion qui c'è la mini taglia questa è la palette che non non tiro fuori dalla confezione ma sollevo soltanto il coperchio per farvi vedere i colori dentro c'è una matita il colore zero che dovrebbe essere argento come si vede dalla dalla punta qui e i colori sono questi per il primo premio invece c'è quest'altra palette anche lei con una mini taglia di primer potion un pochino più piccola e i colori che contiene sono una palette è bellissima tutta ricoperta di velluto e poi a questa specie di maglia metallica che se la toccate si muove un po e dentro a questi nove colori dove con due applicatori io ritengo come al solito inutili vediamo se riesco ecco qua questi sono i colori e adesso metto via tutto prima di rovinare qualcosa insieme a queste palette darò per ciascuno dei dei due premi anche due smaltini della basic io ne ho comprati appunto quattro e ho deciso che farò così dato che non so che colori abbinare a ciascuna palette la prima classificata quindi la vincitrice del primo premio avrà il diritto di scegliere i colori di questi smalti e sono questi quattro ve li faccio vedere verde metallizzato colore è un color verde chiaro erba poi abbiamo un bellissimo blu china metallizzato un rosa bubblegum questo io non ce l'ho di questo colore però mi sembra abbastanza matt non è non contiene dei brillantini non è metallizzato e sempre matt questo ce l'ho anch'io mi piace un sacco questo grigio è un grigio con una puntina di marrone quindi ci saranno due smalti per ciascun premio e la prima classificata la vincitrice del primo premio dovrà comunicarmi una volta che vabbè annuncerò il suo nome dovrà comunicarmi quale quali colori vuole ovviamente la seconda classificata andranno gli altri due questi sono i premi spero che vi siano piaciuti spero che parteciperete in tante comunque vi ricordo che c'è tempo fino al primo di agosto quindi avete ancora quasi un mese di tempo e tutto qui alla prossima in bocca al lupo a tutte ciao ciao